Eccoci ritrovati insieme, stiamo per giungere alle battute conclusive della puntata di oggi di Just Today, una puntata ricca che non smetterà di stupirci perché c'è in serbo un altro bellissimo collegamento stamattina, ma prima ancora andiamo a condividere alcuni tra gli altri scatti che ci avete inviato oggi. Siete tantissimi, ci scusiamo se non riusciamo sempre a condividerli tutti, ma siamo veramente grati dell'affetto che ci riservate. Io vi porterei un cornetto e un cappuccino in ognuna delle vostre case, ma purtroppo non è possibile, quindi magari vi dedicherò una preghiera, so che anche questo potrebbe farvi molto piacere. Un cordiale saluto ci arriva da Maria José e lo scatto è a noi familiare perché evidentemente è stato a San Giovanni Rotondo, Maria José e appunto sul sagrato della chiesa dedicata a San Pio da Pietrelcina ha fatto questo bellissimo scatto. E poi il giardino a Marchesana in provincia di Messina, la foto è di Antonella che ringrazio di cuore, una foto che scattava solo ieri alle 12.56 come possiamo leggere appunto in basso a destra sullo schermo. Grazie, grazie mille Antonella di Messina e poi ritroviamo Roberto da Torino, anche da parte sua un bellissimo scatto floreale su queste rose fiorite. Ciao Roberto, grazie per essere sempre con noi e poi un buongiorno da Avellino, uno scatto molto suggestivo questo. Ce lo invia Nadia che ci ringrazia per la compagnia che le facciamo e noi ringraziamo a sua volta lei che ha scelto, sceglie di appunto trascorrere un po' di tempo con noi. Poi andiamo a Pesco Costanzo, la casa più fotografata del paese, piena di gerani da maggio fino ad ottobre. Molto bello anche questo scatto e poi abbiamo una foto della Madonna delle Grazie, santuario della Madonna delle Grazie a Pesaro che ci invia Antonella da Chiara Valle. Io la foto della Madonna non la vedo, questo però deve essere il santuario di cui appunto ci parlava. E chiudiamo con il buongiorno che ci arriva dalla Basilica di San Simplicio, Olbia, Sardegna e questa volta per questo scatto ringraziamo Anna. Grazie, grazie davvero di cuore a tutte quante voi, tutti quanti voi che ci seguite sempre con affetto. Sarà contento di questo anche il nostro prossimo ospite Paolo Pecorelli, direttore artistico dell'orchestra ravvicinata del Terzo Tipo. Direttore, buongiorno e bentrovato. Come detto ci seguono da tutta Italia, dal nord al sud, isole comprese. Io sono felicissimo di poter condividere con tutti i nostri amici, le nostre amiche che ci seguono il vostro interessantissimo progetto. Di cosa si tratta Paolo? Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, in collegamento. Di cosa si tratta? È un progetto della Scuola Popolare di Musica Don Olimpia a Roma, che dura da una decina d'anni e che quest'anno ha fortunatamente potuto usufruire del supporto di un importante crowdfunding all'interno del progetto Formula di Intesa San Paolo e Fondazione Cesvi e quindi ha potuto subire un notevole boost, una notevole crescita. Si tratta di un progetto di sostegno alla persona attraverso l'attività musicale di alto livello, ovvero noi attraverso un percorso di circa 9-10 mesi e quindi di prove settimanali costruiamo un repertorio, un grande orchestra condivisa con oltre 30 persone con disabilità a partecipare, operatori socio-sanitari e quest'anno per la prima volta, come una speciale sperimentazione, abbiamo anche degli studenti liceali a partecipare. Quindi si contribuisce questo percorso di sostegno alla persona attraverso la musica e soprattutto permettiamo l'accesso, il diritto alla bellezza a tutti e tutte, nessuno escluso. È un progetto davvero molto bello, tra l'altro tutto il lavoro che fate, poi come giusto che sia, viene portato in scena e voi tornate dal vivo mercoledì 15 maggio. Sì, mercoledì 15 maggio saremo in uno dei luoghi più prestigiosi della nostra città di Roma per la musica, ovvero all'auditorio Un Parco della Musica Ennio Morricone, nella Sala Petrassi alle 18.15, per un evento che è già soldato da qualche giorno, quindi siamo belli pieni, molto carichi e pronti a partire. Ovviamente si tratta di un'occasione speciale, sarà uno spettacolo insomma molto molto ambizioso e complesso da un certo punto di vista, ricco di ospiti anche, ricco di ospiti. Ecco, voi siete l'esempio che tante volte poi ha dei bei progetti, è necessario associare anche delle infrastrutture in grado di accogliere i progetti e le persone che appunto vogliono partecipare, vogliono conoscere. L'auditorio del Parco della Musica di Roma da questo punto di vista è diventato un punto di riferimento, vorrei dire, non solo per la Capitale, ma un po' per tutta Italia, sei d'accordo? Sì, ovviamente è una struttura molto importante, grazie anche al patrocinio del Comune di Roma, di Roma Capitale, siamo riusciti a ottenere questa importante e prestigiosa occasione per esibirci. La cosa importante in realtà sarebbe anche quello di permettere a progetti come il nostro, e ce ne sono tanti non solo a Roma ma in tutta Italia, di trasformarsi in servizi stabili alla persona. Questo sì, è molto difficile perché ovviamente si tratta di un percorso in cui c'è necessità anche di professionalità e quindi vanno sostenuti da un certo punto di vista. Quindi il nostro auguri è che questo piccolo esempio possa fungere da agente moltiplicatore di tante tante iniziative del genere, perché appunto notiamo come la musica sia uno strumento molto molto importante per produrre benessere nelle persone che la fanno, in questo caso i nostri utenti o destinatari con disabilità, le loro famiglie, gli operatori, insomma tutto il contesto allargato del territorio. Dove c'è musica c'è speranza. Io con l'aiuto della regia, se fosse possibile, condividerei anche solo per dieci secondi l'audio di quelle immagini che stavamo vedendo mentre chiacchieravamo con il direttore artistico dell'orchestra ravvicinata del terzo tipo per poi ritrovarlo appunto per i saluti finali. Regia, riuscite a farci ascoltare un breve strato di quell'audio, di quel video? Regia, riuscite a farci ascoltare un breve strato di quell'audio, di quel video? Nel blu, diviso di blu, felice di stare lassù. Volavo, volavo, felice di un alto del sole e ancora più su Mentre il mondo pian piano spariva l'ottavo laggiù Direttore, questa è veramente una chicca di questo sabato mattina, non potevamo chiedere di meglio. A te le battute finali per congedarci su queste note meravigliose? Che dire, molto spesso quando si è in presenza di questo tipo di progetti che coniugano l'arte e il sostegno alle persone e che hanno come protagoniste persone con disabilità si fa spesso riferimento al fatto al potere curativo della musica oppure al fatto che bisogna includere le persone all'interno di qualcosa. Noi vorremmo superare il concetto di inclusione per parlare di diritto alla bellezza che è una cosa importante, ovvero queste persone che possono, che spesso dopo al termine diciamo dell'età scolastica, del ciclo della scuola del bollo obbligo rischiano di rimanere sole e comunque vengono spesso prese in carico esclusivamente dalle imprese del privato sociale hanno per noi, non debbono essere incluse come se dovessero essere inserite in un insieme con determinate caratteristiche e rese simili a chi fa parte già di quell'insieme ma dobbiamo mescolarci con le nostre differenze e avere tutti insieme diritto ad accedere a qualcosa di bello, di speciale ed essere protagonisti di qualcosa che ci rende felici come in queste circostanze, come durante i nostri concerti Direttore, grazie mille per aver condiviso con noi questo bellissimo progetto l'orchestra avvicinata del terzo tipo speriamo di ritrovarla anche in futuro così da poter seguire passo passo i vostri progressi insomma i progressi del progetto che state portando avanti grazie di cuore grazie di cuore e un saluto a tutti